il flirt fra vera gemma e gue pequeno è durato quanto un gatto in tangenziale dato che risale a gennaio e oggi alberto dandolo su dagospia ha fatto sapere che lei da tre mesi starebbe con un altro trapper tal mia ifuga in arte miscia carrie fermi tutti sequestrate i cellulari ai minori e ai deboli di cuore si legge su dagospia vera gemma ha un nuovo tormentato amore di ben 37 anni più giovane di lei ma in amore si sa l'età è solo un numero dopo la relazione con il produttore dal sangue arabo yeda e la passione travolgente con il rapper gue pequeno la vera nazionale ci ricasca e perde la testa ricambiata per uno dei trapper e autori musicali più in voga del momento su cui stanno puntando le case discografiche che contano miscia carrie ha 20 anni ed è di origine moldava e pare che appunto si frequentano da tre mesi e tra loro è passione rovente scrive alberto dandolo un rapporto complesso nato dalla collaborazione per il nuovo singolo di vera attrice leone a venezia e candidata agli oscar con il film cult a lei dedicato e ispirato il singolo di vera gemma dovrebbe chiamarsi tigre di razza e pare che miscia carrie abbia contribuito alla realizzazione ma al momento non è stato ancora pubblicato vera gemma il flirt con miscia carrie quando la notizia è uscita il trapper la condivisa su instagram confermando di fatto il flirt quanto durerà questa relazione il tempo del singolo